Si rinnova a Stazzo, frazione di Acireale, l'appuntamento con la sacra rappresentazione della Via Crucis. Domenica prossima, alle 18.30, 20 giovani della parrocchia San Giovanni Nepomuceno saranno impegnati nella quinta edizione che ricostruirà le ultime ore della vita di Gesù. L'iniziativa spose il desiderio di far vivere in maniera più intima e coinvolgente questo evento che riunisce l'intera comunità e permette di vivere i misteri pasquali. Inoltre è occasione per gli stessi attori dilettanti di riscoprire la propria maturità cristiana perché facendo esperienza e memoria della Via Dolorosa possono riflettere sul personale incontro con il Signore a coordinare i giovani e donne Salvatore Di Mauro, sacerdote della parrocchia, da pochi mesi alla guida della comunità stazzese. La passione e risurrezione di Gesù sta al centro della vita della Chiesa e anche al centro della vita di ogni cristiano. Infatti noi cristiani siamo chiamati a vivere la passione e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo nella nostra vita. Per questo i ragazzi dell'oratorio della nostra parrocchia, San Giovanni Nepomiceno di Stazzo, hanno deciso di rappresentarla. E lo fanno per un motivo, perché l'uomo è fatto di carne e di anima. Per cui, per comprendere ancora di più l'amore di Dio, abbiamo bisogno di vederlo con i nostri occhi, di vedere quando Gesù ha sofferto per conquistare la nostra salvezza. Ma oltre a realizzare quest'opera, questo è stato un momento bellissimo per i ragazzi, perché hanno vissuto ogni sera dopo che tornavano chi da lavoro, chi dalla scuola, dei momenti di vera fraternità, dei momenti di vera comunione.